Una visita contornata da polemiche, quella del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli ieri in comune all'Aquila. Il consigliere comunale del suo partito, il nuovo centrodestra, Alessandro Piccinini, si è risentito perché la sottosegretaria avrebbe ignorato completamente i rappresentanti locali dell'NCD. Anche il presidente del consiglio comunale dell'Aquila, Carlo Benedetti, si è risentito a sua volta perché la visita non è stata organizzata secondo il cerimoniale, lasciando così di fatti escluso tutto il consiglio comunale. Al tavolo del sindaco Cialente c'era infatti il sottosegretario accompagnato da Giorgio De Matteis, alla presenza del vice sindaco e del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. La sottosegretaria ha comunque rassicurato nel suo incontro che la corte d'appello rimarrà nel capoluogo. Inoltre il governo Renzi sostiene non dimenticherà l'Aquila, che rimane una priorità dell'esecutivo nazionale. Anche la signatrice PD Stefania Pezzopane dà fiducia alle affermazioni del sottosegretario alla giustizia. Sì, soprattutto perché ce l'ha detto Renzi, che è il capo del governo, e non solo ce l'ha detto ma lo sta dimostrando con i fatti. I fatti sono 6 miliardi a nostra disposizione, nuove norme approvate nel decreto degli enti locali e nella legge di stabilità su mia proposta, con i miei emendamenti e un'attenzione massima anche in questi giorni per sbloccare i fondi del Cipe, per favorire tutte le necessità che i comuni hanno. Chiaramente scontiamo ritardi, ritardi di anni, ritardi determinati da governi incapaci e da commissariamente sbagliati e che adesso noi dobbiamo recuperare con gran lena.